Ciao a tutti, sono Marta Sovia e benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo video in cui parleremo dei vincitori per quanto riguarda i BAFTA Awards. Qualcuno di voi l'ha visti? Sapete che cosa è successo? Blah 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 blah, parliamone. Perché io sono super curiosa sinceramente di parlare con voi dei vincitori, perché ci sono un sacco di film interessanti e sono successe delle cose molto molto importanti. Quindi siete pronti? Iniziamo! Scusate, è tutto con un nuovo microfono, quindi sono molto 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 curiosa. Sarà meglio se lo tengo così? Secondo voi? Non lo so, tentiamo di vedere e speriamo che vada tutto bene. E' molto molto chic, mi piace un sacco. Mi sento tipo l'incantevole crimi. A morsi ci saranno gli Oscar e non vedo l'ora di vederli. Sto recuperando tutti i film, dovrà uscire un video su American Fiction, uscirà prima per gli abbonati, poi ci sarà la recensione. A breve uscirà anche la recensione per quanto riguarda la zona di interesse, che secondo me è uno dei film più belli degli ultimi anni per quanto riguarda proprio il cinema, così è l'argomento. E l'argomento so che è un po' divisivo all'apparenza, però in realtà non lo è, fidatevi. Perché come parleremo all'interno anche di tutto ciò, è un film che parla di non guardare dall'altra parte quando c'è in atto un conflitto e qualcosa che è davvero contro i diritti umani. Quindi non è semplicemente, ok, vediamo i diritti di una persona o una categoria, ma è un discorso generale. Ma iniziamo subito con l'argomento di oggi. Se vi va, prima di tutto pubblicità, prima di tutto, ditemi come vi piace. Vi piace questo abbinamento? Mi sento così professionale con questo microfono. Santo cielo! Finalmente un microfono, un microfono vero. Tutti quelli che si sono arrabbiati. Chissà cosa penseranno di questa volta. Se non sta registrando l'audio, ci rimango malissimo. Non credo che piango. Se mi fate aiutare il mio canale, potete farlo con like o un commento. Se mi lasciate un commento salutando al nostro amico Algoritmo, tanto ormai è tutto Algoritmo, mi aiuta un sacco, bamoli di cata. Potete sostenere il mio canale anche con un abbonamento, oppure ancora condividendo i video per utilizzare questo argomento per parlare magari con i vostri amici. Mi aiuta un sacco. Potete sostenermi anche seguendomi su Instagram e TikTok, mi aiuta tanto, tanto, tanto. Così come utilizzando il mio codice di pampling, il codice sghicio. Ho un codice affiliato, quindi se lo utilizzate mi aiutate tantissimo. Grazie mille davvero. Ma iniziamo sempre a parlare degli awards, dei BAFTA awards. Oh mio Dio, oh mio Dio. Allora, Soul Porn era candidato, mi sa, in 18.000 cose qua. Mi sa, non ha vinto un cavolo, vabbè. Allora, miglior cortometraggio britannico ha vinto Meduse e Aragoste. Io non l'ho visto. Miglior cortometraggio d'animazione britannico, Crab Day. Tutto sullo stesso argomento. Miglior effetti visivi speciali. Povere creature, erano candidati The Creator, Guardian of the Galaxy 3, Mission Impossible e Napoleon. Io sinceramente so contenta a qualsiasi cosa vinca a povere creature, so contentissima. Miglior sonoro doveva essere così. Ha vinto la zona di interesse. C'erano candidati anche Ferrari, Maestro, che santo Dio. Bradley Cooper, va te veramente a curca, come se dice, non so, a Napoli se dice, va te a curca. Mission Impossible o Hop Nightmare? Onestamente il sonoro di Hop Nightmare? No, no, no. Cioè l'unica parte sonoro che tu dici, ah, è quando la bomba, non è il suono. Ok, grazie, ok, 5 minuti, ma tutto il resto. Fortunatamente ho vinto la zona di interesse che ho fatto un lavoro per quanto riguarda i suoni dell'ambiente. bellissimo, bellissimo, bellissimo. E lo sceneggiatore della zona di interesse ha fatto un discorso molto importante, ma ne parleremo più tardi perché sono discorsi complicati. Quindi YouTube, dobbiamo stare attenti e attentissimi. Vabbè, miglior trucco ai capelli, ha vinto povere creature. Anche qui, oh mio Dio. Non credo che saranno contenti, sinceramente, Maestro. Bradley Cooper con quella, perché quella abbronzatura gli hanno fatto, sinceramente. Killers of the Flower Moon. Poi c'era Napoleon e poi Oppenheimer. Anche qui non hanno candidato Barbie? Abbastanza criminale, onestamente. Però hanno candidato Oppenheimer con quel trucco e quel parrucco indegno. Cioè la parrucca di Emily Blunt si vedeva qui la retina, praticamente. È una roba scandalosa. Cioè pure io quando ho comprato le parrucche, mi regalavano gratis da Aliexpress, sinceramente, riuscivo a far leggermente meglio. Quindi direi che le cose sono tragiche. Poi, migliori costumi? Oh mio Dio, qui era difficile. C'era Oppenheimer, Napoleon, Killers of the Flower Moon, Barbie e Povere Creature. Anch'io sarei stata molto curiosa tra Barbie e Povere Creature. I costumi di Barbie erano molto belli, però Povere Creature secondo me ha fatto un lavoro di creazione totale della struttura. Quindi non semplicemente replicare vestiti e così. Oppenheimer no, cioè Oppenheimer non ha capito nemmeno qual era la cosa. Come si dice? La struttura veramente dei completi maschili degli anni 60. Sbagliato anche quello. E non lo so, cioè sembra che l'ho scoperto solamente io. Qua si sono incoglioniti. Miglior scenografia. Allora, la zona di interesse. Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Barbie e Povere Creature. Cioè, Oppenheimer, la scenografia... Si sono drogati? Che cosa hanno fatto? Cioè, gli ambienti erano tutti totalmente vuoti. E ho visto un video di Dietro le Quinte della Slim Dog. E hanno detto praticamente che la scena... Cosa? Nolan è andato da scenografa. Senti, hai cinque giorni per fare questa cosa. Per costruire un intero palazzo di Los Alamos. Onestamente, trovo tutto ciò molto grave, onestamente. Vi dico la verità. A prescindere da Oppenheimer e roba così. Perché quando faccio questi discorsi, ovviamente tutto viene per la domanda. No, ma dici così per Oppenheimer. No, non dico così per Oppenheimer. Perché parlo di queste cose sempre. Onestamente è molto grave, secondo me. Quando ho Hollywood, un regista, scusate, ha questo tipo di potere. Inevitabilmente mette a rischio i propri lavoratori. I lavoratori dello spettacolo sono non abbastanza tutelati. In Italia, praticamente, sono super sfruttati. Ma negli Stati Uniti, secondo me, non sono abbastanza tutelati. E se tu devi costruire dei palazzi, delle strutture, delle case, in cinque giorni, stringendo il tempo di costruzione di questi edifici, tu metti in pericolo i lavoratori. Perché se devi lavorare più veloce, non con tempi normali, dividendoti magari tra tanti lavori, tra tante persone, eccetera, eccetera, è probabile che qualcosa vada storto e qualcuno possa rimetterci la vita. E per me, per alcune cose, puoi anche chiedere, spingere di più, fare dei turni più stressanti. Ovviamente tutti dovrebbero essere giustamente pagati, ma questa è una cosa che forse nel capitalismo non esiste più. Un conto è se tu devi fare la CGI in un tempo più breve. Paghi più persone, fai spostare le persone che si danno il cambio in ufficio. Un altro conto è se tu devi chiedere di far fare una scena in un tempo più breve agli stunt, agli elettricisti, agli scenografi che devono costruire le cose. C'è un rischio enorme che queste persone perdano la vita. E per me è molto grave non parlare di queste cose. Magari di dire, eh sì, la visione del regista. Sì, ok, la visione del regista, scusate, ma la visione di un regista merita di ammazzare la gente. Cioè, ma tostate, calate questa peddina, cosa del genere. Ci credete? Andate a far ammazzare voi, andate a costruire voi cose e casette là dei Nolan per in cinque giorni, con il rischio che magari qualcuno è un po' stanco e butta una cantina nella che venga addosso e crepate. Ma io non lo so. Credo che ogni regista debba essere limitato dalla produzione per quanto riguarda certe cose. Quindi certi ritmi lavorativi devono essere molto ben circoscritti e devono essere rispettati. Chi riguarda l'attore, eccetera, eccetera. Però se l'attore può recitare una scena, recitare venti ore e ovviamente è stanco, però non è che è in pericolo di vita che deve fare un lavoro molto di precisione e attenzione che mette in pericolo lui e gli altri, questo sì. Anche perché se può perdere la vita il lavoratore, ma può perdere la vita l'attore, il capomacchine, qualcun altro che passa lì sotto, qua la cantinella grolla, qua la casa grolla e crepa qualcuno. Quindi non lo so, vabbè. La migliore scenografia io onestamente avrei messo Barbie o Povere Creature. Devo recuperare Killers of the Flower Moon. Povere Creature però ha fatto davvero un ottimo lavoro. C'erano momenti che erano da togliere il fiato, anche qui. Barbie ha semplicemente dovuto riportare un immaginario che era già ben chiaro. Povere Creature l'ha dovuto creare e secondo me questo va pregnato. La zona di interesse ha ricostruito nel dettaglio la vera casa del comandante del campo. Dico, quando ti impegni tanto, ti concentri, eccetera, eccetera. Devo un po' accusare per l'algoritmo. Però ovviamente secondo me la creazione va sempre premiata di più rispetto al saper riprodurre fedelmente qualcosa. Vabbè. Miglior montaggio o Pneimer? Mi sembra veramente follia che abbia vinto miglior montaggio o Pneimer e non Povere Creature, c'era anche Anatomia di una caduta, Killers of the Flower Moon nella zona di interesse. Montaggio d'Opneimer? No, no. Io lo so che ora mi beccherò. Ah, ma tu dici così per partire? Ogni porto ci stanno queste persone che non lo so, non ascoltano. Io non è che ve sto a dire qua in questa lista, sono molto onesta, non è che ve sto a dire Barbie è la migliore di tutti. Ve sto a dire che al momento secondo me le cose più belle che io abbia visto sono proprio Povere Creature e la zona di interesse. Devo vedere Scorsese e devo vedere Anatomia di una caduta. Però onestamente i film che sono arte, qui dentro, tra questa lista, sono assolutamente la zona di interesse, Povere Creature. E Opneimer non è all'altezza di questi film, vi ricordo la verità. Poi, Miglior Casting? Ha vinto The Holdovers, poi c'era Estrani, Anatomia di una caduta, How to Have Sex, Killers of the Flower Moon, Certo, far vincere The Holdovers davanti al casting De Niro, Leonardo DiCaprio, Lili Granston. Boh, io non ho visto il film, magari sono a merda che vedevo. Ma io continuo a dire che The Holdovers è assolutamente migliocre. E vedetevi American Fiction, che ha candidato anche lui come miglior film, secondo me è decisamente meglio a The Holdovers. Vuole fare una cosa, secondo me, molto simile, riflettere sul privilegio e farne anche dell'ironia. Però il punto è che questi ci riescono e lui. Poi, Miglior Colonna Sonora? Ha vinto Opneimer, erano candidati anche Spider-Man across the Spider-Verse, Anthony Wills per Soulborn, Ah, Povere Creature e Killers of the Flower Moon. Ludwig Goranson a me piace molto, dall'epoca di Black Panther. Ci sono tutti i miei video per dimostrarlo. Onestamente è stato un po'... Vabbè, senti, questo non è disponibile. Ce l'ho poi copiata per Opneimer, io l'ho trovata così. E come vi dicevo, la creazione, secondo me, merita molto di più. È brutta la colonna sonora di Opneimer? No. Però se io paragono questa a Povere Creature, io in Povere Creature ho una colonna sonora che inizia da sgraziata e diventa una colonna sonora vera, tra mille virgolette. Ovvero, sì, come si dice, viene educata al suono, al ballo, la colonna sonora cresce esattamente come cresce Cerebralmente Bella. E questo progetto per me merita, già, perché vuol dire che la colonna sonora fa un percorso che è comprensibile, che è esattamente lo stesso cuore del film, che io non vedo in Opneimer, perché è bella, però se vede che gli hanno detto, senti, Coranson, ma qui c'è questo che un po' vedi, ciò vuoi fa te. E lo trovo anche umiliante per lui, onestamente, però vabbè, è un altro discorso. Miglior film d'animazione? Galline in fuga, Elemental, Spider-Man e Il ragazzo e l'airone. E io non l'ho vista, ho visto solo Spider-Man, quindi che vedo solo... Miglior documentario? Ha vinto 20 giorni Mario Paul. Sì, miglior film non in lingua inglese. C'erano La società della neve, Past Lives, Anatomia di una caduta, 20 giorni a Mario Paul e La zona di interesse. Ha vinto La zona di interesse. Allora, iniziamo qui il discorso. Io sui Twitter vi ho scritto il produttore, anche su Instagram, in realtà è lo sceneggiatore della zona di interesse, ovvero colui che ha scritto il film, si è presentato sul red carpet con un cartello dicendo di chiedere di cessare il fuoco lì nella striscia che inizia con la G. G-A-Z-A. E ci siamo capiti. E ha fatto anche un discorso in cui quando riceve sul palco è l'unico che ha citato apertamente quella zona del mondo che per questioni di algoritmi io non posso nemmeno nominare, pensate che cavolo di folli è. E praticamente ha detto che chiedendo di cessare il fuoco e chiedendo semplicemente che il film di La zona di interesse se non lo sapete parla di un comandante che vive a ridosso di un campo che è quello di Auschwitz. Ha una storia reale e si parla proprio di come si ergano muri per potersi concentrare sui propri cavoli personali facendo finta che l'orrore che sta avvenendo dall'altra parte del muro non stia esistendo. E ha detto che questo film non parla solamente di quello ma parla dei passati e futuri eventi simili dove si ergono muri, dove ci giriamo dall'altra parte davanti alla sofferenza della gente. e ha citato chiedendo la stessa empatia che proviamo per Mario Pol o lo Stato che inizia con la I pure con l'onzebo a D per quanto riguarda l'algoritmo di YouTube la stessa identica empatia anche per gli innocenti, i civili che sono per esempio i Yemen e il paese che inizia con la G. E' vero che c'è un grado di meno empatia per alcune situazioni. Pensiamo anche per esempio a quello che sta succedendo in Congo, in Sudan, in Myanmar che non viene più citato. Purtroppo è triste come anche nel nostro mondo ci siano vittime di serie A e serie B. E' veramente molto triste. Miglior esordio alla regia, sceneggiatura o produzione? Hanno vinto con il film Hurt Mama che io non ho visto. Miglior Rising Star stare in ascesa ha vinto Mia McKenna Bruce che è la protagonista di How to Have Shurt Yourself che è il film che vi ho parlato qualche tempo fa che secondo me è super super interessante. Quel video è andato malissimo sinceramente. Quando parlo di film che sono poco noti purtroppo è molto complicato. Quindi molte volte mi chiedete mi fai un video su film che è un classico e roba del genere. Purtroppo non vanno. E se io faccio un video che va molto molto male di numeri per esempio YouTube penalizza il mio canale. Quindi purtroppo è molto complicato e siamo un po' schiavi di determinate cose. Magari certe volte io queste cose le faccio per gli abbonati quindi è un modo per aggirare la situazione però è molto complicato. Vabbè. Miglior attore non protagonista Robert Downey Jr. per Up Nightmare ha vinto su Dominic Sessa di The Holdovers Paul Mescal di Estranei Ryan Gosling di Barbie Jacob Elordi di Soulburn e Robert De Niro di Killers of the Flower Moon. Vi dico a me Robert Downey Jr. non è piaciuto l'ho trovato quasi cartunesco. Lui ha fatto un discorso molto particolare tra l'altro ma gli sono ricresciuti i capelli scusate ma che è successo? Ma non li aveva non più oppure li aveva arrasati semplicemente per una questione pratica non lo so. Vabbè. Lui ha fatto un discorso dicendo vorrei ringraziare quel tizio di nome Christopher Nolan che mi ha detto che insomma la mia carriera era finita ed è qua della sembrava una battuta. onestamente potrebbe essere anche una reale frecciatina perché ci sono dei discorsi di corridoio diciamo per quanto riguarda l'industria che secondo molti poi va a vedere se è vero o meno ma noi che ne sapiamo tra Robert Downey Jr. e Christopher Nolan non corre buon sangue. Si dicono che Robert Downey Jr. si ha un po' una rottura lavoracce che chiede un sacco di cose però il motivo per cui non corre buon sangue sembrerebbe che Christopher Nolan non stia facendo una vera campagna per gli Oscar per la sua candidatura come attore non protagonista infatti effettivamente se voi ci fate caso molto spesso nelle interviste che Christopher Nolan parla di Kylian Murphy di quanto è stato bello lavorare con lui che hanno creato questo progetto raramente Robert Downey Jr. era una frecciadina questa è Robert che ne sapevo boh a me un po' mi sembra però vabbè migliore attrice non protagonista c'era Rosamund Pike Sandra Huller della zona di interesse Claire Foix Estrani Daniel Brooke per il colore viola Emily Blunt per Oppenheimer e ha vinto Divine Joy Randolph di The Holdovers onestamente per me è stata molto meglio Sandra Huller per la zona di interesse anni luce più brava però vabbè migliore attore protagonista ha vinto Kylian Murphy per Oppenheimer ha vinto su Theo Yeo di Past Lives che secondo me è stato bravissimo vabbè su Bradley Cooper de Maestro cioè non mi stupisce minimamente perché onestamente ha la capacità attoriale di Bradley Cooper è praticamente no so Totti che fa pubblicità di Pastiglia e Vala Stoviglie poi era candidato Coleman Domingo per Rustin che io non ho visto voglio recuperare poi Giamatti per The Holdovers che secondo me Basic Vol Giamatti ha fatto dei meglio eccetera eccetera e Barry Keoghan per Saltbone sì bravo ma onestamente secondo me in questo gruppo a me è piaciuto decisamente di più Theo Yeo molto molto di più lui ha fatto un discorso dicendo che il mostro di qualcuno potrebbe essere l'eroe di qualcun altro io sinceramente ve lo posso dire la verità ma sono veramente rivoltata un po' il discorso che facevamo prima per vittime di serie A e serie B io direi che è la stessa cosa per quanto riguarda la figura di Oppenheimer Oppenheimer ha una persona che nel mezzo della seconda guerra mondiale gli hanno detto senti ci fai questa bomba che deve essere la più letale possibile deve ammazzare più gente possibile lui l'ha fatto e poi non lo so abbiamo trattato il suo personaggio come se si fosse stupito che durante una guerra lavorando per il governo mentre il governo gli diceva che voleva utilizzarla per lanciarla sulla gente lui si è stupito che fosse successo io non lo so ma noi abbiamo raccontato molto spesso delle storie tipo quelle storie basic capito lo scienziato che si toglie la vita pur di non dare la chiave alle persone brutte e cattive che potrebbero utilizzare quel virus per fare qualcosa di male abbiamo sempre trattato tipo quello è un eroe ma uno che attivamente fa una cosa del genere perché ha una visione perché il suo ego vuole vedere così per me dobbiamo a livello proprio generale percepire questo personaggio in maniera critica cioè se lui stesso si propone come dottor morte c'è per forza una colpa dentro e la colpa non è oh mio dio ha scoperto questo perché ogni volta che ne parlo mi arrivano nei commenti eh ma io sono indignato perché tu stai dicendo questa cosa scusate ma davvero siamo indignati perché questo ha fatto fuori 200.000 persone ma ora se Oppenheimer non fosse Oppenheimer con un tizio che ha bruciato vive 200.000 persone in Giappone ma fosse stato un tizio che ha bruciato vive 200 persone in Italia 200.000 persone in Italia voi l'avreste presa bene cioè avreste tutto questo distacco dalla visione critica di questo personaggio secondo me no i personaggi sì i personaggi storici non vanno colpevolizzati ma vanno responsabilizzati cioè e poi molto spesso mi dicono ma allora quest'altro personaggio mi tirano fuori che ne so Napoleone oppure quello che ha creato la dinamita nel 1800 ma c'è un concetto di responsabilità sociale che nel 1800 non c'era nel 1800 tu magari prendevi il ragazzino lo facevi lo utilizzavi come schiavo nel 1940 non c'era quella cosa cioè capivi che era sbagliato c'era una dimensione collettiva differente e se tu così a occhi chiusi racconti il dramma di oh mio dio come si è costato costretto a fare questa cosa oppure oh mio dio era durante la guerra non credevo l'avrebbero mai utilizzata sei un po' ingenuo oppure effettivamente hai voluto far finta di non capire ma capisco che c'è un dramma personale capisco pure che se lì ok ci sei rimasto male sapessi quanto ci sono rimasti male quelli che hanno visto tutta tutta la loro vita spazzata via non lo so 200.000 persone che non lo so i parenti sono stati porverizzati non ci hanno manco un po' corpo do piagne cioè non lo so ma vogliamo veramente trattare questo argomento come se fosse non esistesse perché questo secondo me anche parte onestamente della gerarchia occidentale poverino ha fatto un errore di comunicazione sì ci sono dei drammi personali ci sono delle responsabilità e se tu togli la vita a qualcuno sì ok c'è i drammi personali però non conta c'è Ted Bundy c'ha avuto una brutta vita probabilmente sì Jeffrey Dahmer c'ha avuto una brutta vita probabilmente sì però mi dispiace non conta niente è rovinata la vita un sacco di persone mi dispiace c'è il comandante della zona di interesse c'ha avuto magari una brutta infanzia probabilmente sì però sti cavoli hai fatto fuori un sacco di gente ma che cazzo vuoi eh quindi onestamente anche parlare di questi discorsi è un po' così cioè immaginatevi se fosse la storia di uno che vendeva schiavi neri noi ne parleremo in maniera così distaccata no no a me sembra sinceramente che no cioè io non me credo onestamente più illuminata delle altre persone me credo una persona con dello spirito critico e vedere l'assenza di spirito critico mi fa veramente arrabbiare perché capisco le persone non è che non voglio non ci arrivano non vogliono arrivarci perché è più comodo ma tra dieci anni io sono abbastanza certa e si parlerà di questo film diversamente esattamente come santo il dio se ne sta parlando un sacco di film che io ho il mio video là che mi è stato ricoperto di merda tipo la vita di Adele quando lo dissi io del fatto che fosse molto molto ehm lo sfruttamento del corpo di queste donne con fine vuoyeristico e non per l'amore eccetera eccetera io ho dovuto levare il video perché c'erano un sacco di commenti di insulti non hai capito questo film come ti permetti roba così arrivato il tempo uscito il tempo che è successo sono uscite le interviste delle attrici che hanno confermato quello che ho detto io ci sono un sacco di persone che parlano di quel film esattamente in questi termini quindi vaffanculo il fatto che io ho studiato cinema qualcosa ne vorrà di vuol dire che qualcosa ne so e magari la gente ci arriverà tra 50 anni 10 anni 5 anni io al momento ci sono arrivata condivido questa cosa se non siete d'accordo oh piate vanta asca ma che cazzo volete da me ma seriamente secondo voi sto a dire qualcosa se è sbagliato secondo voi sto sbagliando nel dire forse uno che ha polverizzato 200.000 civili perché oh mio dio voleva vedere se era in grado di creare una bomba potente perché evidentemente c'era il cazzo piccolo è effettivamente una cosa brutta cioè sto sbagliando che dobbiamo dire che è giusto fare delle cose creare delle cose che possono essere delle armi in un momento dove sai che possono essere usate e tu non c'hai un minimo di responsabilità cioè se io c'ho un matto che mi arriva vicino e mi ha chiesto se gli do un cortello cioè che faccio se io lo do sono responsabile in parte potrei dire forse hai fatto vinta di non capire la situazione se mi dà 50 euro io gli do quel cortello secondo voi che succederà ovviamente io non ho direttamente torta la vita a nessuno però ho una responsabilità che per il mio scopo personale ho deciso di far finta di non vedere è semplice poi vabbè ma questo ce la faremo tra 50 anni cioè già adesso stamattina scusate non lo so fa fuori i ragazzini è una roba brutta e già adesso c'è un problema politico per farlo capire ce la faremo tra 70 anni probabilmente vabbè miglior attrice protagonista margot robbie per barbie vivienne opara per rye lane carrie mulligan per maestro sandra huller per anatomia di una caduta fantasia barrino per il colore viola e ha vinto emma stone per povere creature meritato io le altre non l'ho vista quindi non lo so barbie vabbè è stata meglio emma stone miglior sceneggiatura non originale c'era la zona di interesse povere creature opnamer e strani e ha vinto american fiction meritatissimo film tratto dal romanzo di percifal haverett cancellazione un romanzo bellissimo e super importante non vedo l'ora di parlarvi del film perché secondo me è un altro film molto molto interessante che pure è qua bisogna vederlo un poco accendendo il cervello ce la faremo vabbè miglior sceneggiatura originale ha vinto anatomia di una caduta su barbie the holdovers maestro e past lives poi c'è miglior regia ha vinto christopher nolan per opnamer madonna non era non era candidato iorgo selantimos per povere creature né scorsese follia follia un ammasso dei rincoglioni di santo cielo the holdovers ha una regia totalmente basic anatomia di una caduta non l'ho vista maestro vabbè manco ci spregamo e strani non l'ho visto la zona di interesse secondo me è già semplicemente la scena finale quella nelle scale si compra tutto opnamer che se non mi rende se lo butta in tasca e butta nel cesso opnamer e tutta la scena di christopher nolan ma vabbè miglior film britannico ha vinto la zona di interesse sono assolutamente d'accordo su wonka scrapped saltworm ryleen povere creature the whole hack napoleon how to have e strani decisamente meritato miglior film ha vinto invece opnamer su anatomia di una caduta killers of the flower moon povere creature the holdovers e onestamente secondo me povere creature suo magno e suo mette in tasca ma vabbè questo è un altro discorso so che questo questo video lo so che la gente si arrabbia sempre quando dico queste cose perché molto spesso la gente non vuole veramente sentire dei ragionamenti vuole sentire qualcuno che dice ad alta voce quello che loro pensano sia giusto perché sentire qualcuno che dice una cosa diversa li mette in dubbio dice madonna mia ma no non può essere così io la penso così quindi tutti gli altri sono stupidi e per me è un ragionamento stupido ma questo è un altro discorso che vi devo dire questo è tutto sinceramente guardatevi american fiction guardatevi la zona di interesse recuperatevi assolutamente perché secondo me sono i film tra i più interessanti insieme a povere creature gli altri alcuni li devo ancora recuperare ma sicuramente più interessanti per quanto riguarda questo la zona di interesse arriverà breve la mia recensione analizzeremo tutto molto bene soprattutto la scena finale quindi bamboli di casa boh facciamo tutto questo grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video se siete rimasti se siete rimasti fin qui lasciatevi sotto un emoji a tema tema giappone che vabbè sono molto curiosa sinceramente come reagiranno i giapponesi per quanto riguarda questo film lo scopriremo ma noi ci vediamo al prossimo video ciao bamboli di casa e fate i compiti ecco guardatevi dei bei film poi ditemi che cosa ne pensate grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao